Nuova operazione antidroga dei carabinieri del NORM della compagnia di Poggio Mirteto che hanno arrestato tre uomini colti in flagranza di creato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ventenne residente a Roma, censurato, un trentunenne residente a Stimigliano, censurato e un venticinquenne residente a Monte Rotondo, sempre censurato. I primi due sono stati sorpresi mentre cedevano circa 14 grammi di cocaina. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia di Poggio Mirteto mentre l'acquirente ora ha gli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.